Avrei un certo languorino Ovviamente non panino No, no, no Un boccolo ricco di gusto Se conosco il posto giusto Siamo d'accordo, su, su, via Tutti alla piadineria È arrivata la polpetta La piadina in formato rotolo Con polpette e parmigiano reciano D.O.P La piadineria La più buona che ci sia La piadina in formato rotolo